Nuova donazione di carrozzine per gli ospedali dell'ASL VCO. Impegnate le associazioni Un Sorriso nel Cuore Onlus, Il Cantante della Solidarietà e Corriamo per un Sorriso nel Cuore. L'ennesima tappa nazionale la facciamo a Domodossola e Verbagna. Siamo arrivati a 600 carrozzine donate in tutta Italia. Oggi abbiamo donato due carrozzine per il DEA di Domodossola, due pediatriche, due carrozzine pediatriche per il DEA di Verbagna e due carrozzine per l'urologia. È una bellissima soddisfazione, è l'ennesima tappa del Cantante della Solidarietà dove ringrazio tutte le persone che collaborano con noi a livello nazionale. In questi momenti difficili fare della beneficenza non è facile, sappiamo che oggi la gente è in difficoltà in tutto. Noi ci siamo riusciti e siamo soddisfatti per aver donato soprattutto le carrozzine pediatriche che è un prodotto che non si trova né idea a livello nazionale. Noi invece siamo riusciti a fare queste tappe e speriamo ancora di farne tante a livello nazionale. Importanti dunque le carrozzine pediatriche ma anche la soddisfazione da parte del reparto di urologia. Sono carrozzine mediche, molto importante per una mobilizzazione precoce dei nostri pazienti. Noi stimoliamo notevolmente la precoce riabilitazione e mobilizzazione anche di missione del paziente in una chirurgia mini-invasiva, quindi in un'ottica strategica di mini-invasività e di precocezza di missione. Erano molto importanti, è stato un segnale importante di tutela e di assistenza della nostra ASLE e delle associazioni di volontariazione del nostro territorio. Le sfrutteremo, le utilizzeremo molto e invito tutti a venire a vedere il nostro reparto per vedere come agiamo al termine di questo purtroppo brutto periodo Covid-dipendente.